Oh yes! Oggi ragazzuoli, amici, andremo a giocare questo deck. Oh yes! Death Star. Essenzialmente, vediamo che questo deck è formato da una sinergia di tipo cave metti di battaglia. Infatti, come potete ben vedere, questo mazzo è molto ricco di carte incantesimi e permanenti in generale che creano value entrando e uscendo dal campo. Abbiamo per quindi compiere questa azione simpatica il Charming Prince, che dice quando il principe entra nel campo di battaglia, scegli uno, scrai due, oppure guadagni tre punti vita, oppure esili una creatura a bersaglio che controlli e la rimetti nel campo di battaglia sotto il tuo controllo all'inizio della tua prossima sottofase finale. Abbiamo Daxos, che comunque sinergizza bene con Iliod, eccetera. Ho voluto ottenere tre al canistole proprio per andare a cerca di più artefatti possibili. Probabilmente, più incantesimi, probabilmente si potrebbe togliere un reverente oplita e mettere un altro banishing light. Così dovremmo esserci. Quindi, abbiamo a bunch of one pulls, l'alseide che dà protezione ai nostri incantesimi. Il Giant Killer, che ci serve contro mazzi magari come monorosso per evitare di far attaccare e tappare creature, distruggere creature, non fa mai male, e poi flicchiamo, diciamo, con queste due spell, questo in per quattro e questo in per quattro. Poi abbiamo Daxos, niente, Eliod, Gideon e reverente oplita, che chiaramente ci sono molte carte che fanno tanta devozione e creare un sacco di token può essere buono a volte. In ogni caso, quella che ci manca un po' forse è della fonte di pescaggio, però diciamo che ci riusciamo a orientare abbastanza bene le pescate con il Charming Prince e abbiamo tutte carte comunque che fanno value, quindi in realtà è una lama a doppio taglio questa cosa. Bene, dette queste piccole cose, direi di andare subito nel game, vedere cosa ci dà oggi il mondo di Magic Arena. Andiamo un po'. Ready, 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 we're ready, we're ready. Mary Chan. Hello. Hello, Mary Chan. Ok. La mano un po' strana. Andremo a unligarla, sinceramente. Questo, questo è molto meglio, questo è molto meglio, direi, direi. Allora, ehm... Ok. Ok. Cosa bottumiamo? Cazzo, cosa, 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 cosa bottumiamo? Probabilmente un aspetto. Probabilmente un aspetto. E' tutto il matchup che dobbiamo affrontare, purtroppo ancora non abbiamo informazioni. Essendo cominciato il match adesso, dovendo compiere questa azione che sembra un mono bianco. Quindi terra, di orecchie ci va bene, di orecchie ci va bene... Ok, avevo controllato una cosa, che adesso è tutto bene con la connessione. Allora, io direi di fare Daxos. Il prossimo turno possiamo eventualmente esiliargli qualcosa. Probabilmente lo farà. Ok, l'indeln, l'indeln direi che va rimossa. No, lo prendiamo, va rimossa, perché anzitutto fa devostione per Iliod, quindi via, 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 assolutamente. E poi fa guadagnare vita, chiaramente. Io qui direi di andare a swingare, perché tanto dobbiamo mantenere comunque un clock anche a lui, tanto non bloccheremo a prescindere perché vogliamo Daxos. Ci fa devostione, eccetera. Ok, un altro pride meet. E un down of hope. Poteva andare peggio. Ok, Arcanist Hall è una gran bella pescata. Direi che lo andiamo subito a droppare. Pompiamo Daxos, prendiamo l'altro banishing light. Nice, 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 nice. E dioreche possiamo andare ad attaccare. No. No. Facciamo i safe. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Vediamo che gioca il nostro opponent. Ok, Angel of Vitality. Un volante che possiamo bloccare per ora. Allora, le opzioni qua sono Charming Price, direi, fino a che siamo in tempo, perché abbiamo assolutamente bisogno di otterre. E poi direi che possiamo bloccare, tenerci il Flicker of Fate per bloccare con il nostro Owl. Allora, dovevamo fare Scry, abbiamo detto, per bloccare con il nostro Owl e bounceare il nostro Owl e riprendere l'effetto e pescare un incantismo. Ok. Beh, direi che ci siamo, ragazzi. Terra è un altro Plita. Prossimo turno possiamo fare brutto. Allora, io direi di fare così. Di ottenerci il Flicker of Fate. Possiamo anche fare una cosa. Noi adesso attacchiamo. E poi, prima che passi, anzi, quando lui ha diocchiarato con chi attaccare, noi mettiamo full control, adesso andiamo, ok, siamo andati in full control, per cui adesso vediamo, cazzo fa, cazzo fa, cazzo fa, ok, crea un token, crea un token, pass to combat, pass to attackers. Adesso, ok, adesso, ok, facciamo, ok, facciamo, ora, il nostro Fluking, Flukings, rio prendiamo, vita con Daxos, triggeriamo lui, sfortuna. E in realtà ho fatto anche abbastanza una mio splay, perché, cioè, in realtà no, però avevo, diciamo, fatto lo scry col Charming Prince e tenendomi una terra e l'Oplita. E adesso in realtà l'ho buttato via. Però, it's fine. Ok, la terra l'abbiamo ripescata, anche perché ce ne sono 25, 26, insomma, uno o due in più, come avrete ben visto in inizio video. E io addio re che adesso possiamo creare, se il gioco ce lo permette, 10 simpatici token. Anzi, 9. Se ci avevamo anche Elliot, ragazzi, succedeva un patatrack, perché entravano 9 creature, quindi c'erano 9 segnalini da distribuire, perché guadagnavamo, adesso trigger anche Daxos. Con calma, perché la connessione oggi è un po'... Ok, così, mi ha guadagnato non so quanta vita, vabbè, ci sta, ci sta. Se ci fa attaccare, io direi di attaccare con il gufo, andiamo a 13. Prossimo turno possiamo swingare un bel po'. Lui adesso però incomincerà... Ok, no, si è arreso. Pensavo che incominciasse a contare sul down-up, in realtà aveva margini di miglioramento, ma probabilmente aveva solo terre in mano. Bene, bene. Il primo... Il primo... Il primo match è andato. È andato. Tra l'altro ho anche un draft che prometto, prometto, boys, a breve vi porterò. Adesso devo un attimo... Organizzarmi in quanto a videocutting, eccetera, per comunque non appesantire troppo il download, cioè l'upload su YouTube. Per cui io questa mano di orecchie ce la andiamo a tenere, perché abbiamo due removal, elspet, una carta che crea value, un alseide, ok. Probabilmente... ok, un'altra elspet. Allora, noi andiamo a giocare l'alseide, passiamo il turno. Non so che tipo di umasto potrebbe essere, potrebbe essere umasto death touch, no, umasto sembra life gain, quindi probabilmente ci saranno anche degli aiani. E andiamo a lasciar passare. Ok, Cavalier of Dawn. Io odiorei di andare. Di un giant killer? No, forse è meglio aspettare. Aspettiamo che lui cerchi di calare le carte che più gli danno value. Ok, una l'ha appena calata. Quindi, nice. Allora, io odiorei di andare a prenderci un trade. All right. Va bene. Triggera dopo, iliod. Quindi uno lo metto lì, uno lo metto lì, uno lo metto lì. Ok, quindi quello diventa un simpatico 4-4. Nice. Allora, io direi che possiamo attendere così, ragazzi. Perché adesso lui probabilmente passerà subito alle attaccanti. Lui non si triggera. Pass to blockers. Pass to damage. Lui non si triggera ancora a Eliud. Giustuggiamo col giant killer. Il buon healer's hawk. Si triggererà una volta a Eliud. Ma adesso vediamo che non ha neanche più devozione l'opponent. Quindi direi che era la cosa giusta da fare. Adesso possiamo fare... Gideon. Non vorrei giocare Benishing Light perché se lui ha un removal del genere Eliud ritorno in campo io ancora non ho le terre per rispondere, ovvero andare di Elspeth. Yook! Per cui io credo che farei così. Allora, Gideon. Più uno. Submit zero. Ok, si prende il suo più uno comunque di loyalty. E adesso dovrebbe anche sopravvivere perché... Yook! Yook! Ok, al 6. Non ci fa paura per ora. In realtà... In realtà potrebbe inficiare sui nostri removal. Però... E' anche vero che... E' anche vero che... Ok, terra. Perfetto. Zero è diore. Allora... Siamo a fare. Benishing Light. Su... Benishing Light su Eliud. Così lui sacrifica l'Alseide. Sì. E... Se andiamo a dare... Ok. Perfetto. Devo dare protezione dal bianco. Va bene. E... Adesso facciamo così. Diamo il più uno. Facciamo indistruttibile. Giusto perché abbiamo l'occasione. Quindi andiamo indistruttibile. Ok. Attacchiamo con Gideon. Yook! 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 Passiamo il turno. Il prossimo turno abbiamo un bloccante. Per cui il nostro Gideon è abbastanza al sicuro. Ok. Questo è male. Se ha un removal per il Giant Killer ci fa fuori Gideon. Speriamo di... No! 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 Lo punta. Lo vuole attaccare. Io direi che lo paro. Che abbiamo bisogno di Gideon. Ok. Va bene. Altro segnalino. Prossimo turno. Io direi Aspet Conquest Death. Se ce la facciamo. O addirittura... Addirittura... Se io faccio questo. Yook! 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 Io distruggo questo. Yook! 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 Che comunque è un Death Touchers e rompe il cazzo. Lui che era anche quello. In realtà potevo distruggere anche la mia Banishing Light. Ma credo che troveremo il modo di riutilizzarla. E capirete anche come. Quindi diamo un altro più uno. Anche perché col meno 6 di Ogideon riusciamo anche a esiliare il buon Iliod. Per cui... It's fine. Facciamo Cavaliero of Dawn indistruttibile. Attacchiamo con Gideon. Vediamo se para o dà legame vitale. Ma non penso. Ok. Infatti lascia passare. Perfetto. Siamo in ottimo shape. Perché direi che... Diocarte che pescano lui non ne ha. Creerà giusto qualche token. Quello sì. Ok. Allora. Noi adesso possiamo fare... Allora andiamo ad attaccare prima. Giodiamo in distrattivo. Andiamo ad attaccare. Lui non so se lascia passare. Ok. Crea un bloccante. Perfetto. Blocca. Lì è basta. Ok. Facciamo far così adesso. Targettiamo Iliod. E lui probabilmente concederà. Così... Dai. Riusciamo a riportarci anche qualcosa. Nel campo di battaglia. E se si distruggono il Cavalier of Dawn. Dopo si crea un ciclo continuo. Erspeth. Cavaliere. Erspeth. Cavaliere. Erspeth. Cavaliere. Erspeth. Cavaliere. Eccetera eccetera. Al di là che abbiamo un altro Erspeth. E un Charming Price. Già di giocare. Per fliccare qualcosa. Eeeh. Niente. Io direi che il game è abbastanza over. Infatti concedere. Oh yes. Fixing that. Yook. 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 L'altro siamo anche a 17 minuti di un video. Quindi perfetto. Perfetto. Facciamo un altro game. Regas. Direi che poi. Il video è pronto. Un po' di sonnolenza oggi. Un po' di sonnolenza. Vediamo che in realtà. Non si vuole caricare lo schermo. Dai. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Maria che fatica. Ah. L'attesa infinita ragazzi. L'attesa infinita. Vabbè. Ragazzoli. Io a questo punto direi di salutarci purtroppo. I miei problemi di connessione mi stanno. Abbastanza segando le gambe. Però da quello che mi sembra di vedere. Siamo giunti a un asintoto. Per cui. Niente. Questo addio anticipato. E mi dispiace un pochino per l'inconveniente. Però credo che. Del contenuto ce ne sia da far vedere. Ok. No. Abbiamo semplicemente perso la connessione. Quindi. Ha risposto il gioco. Ok. Perfetto. Direi che a sto punto possiamo tentare di rigiocare. No. Niente. Ok. Va bene. Come non detto. Ragazzi. Spero vi sia piaciuto il video. Cliccate mi piace. Condividete. Iscrivetevi. E fatemi sapere un po'. E niente. Questa. Per questo mono bianco Death Star è tutto. E ci vediamo alla prossima avventura su Magic Arena. E ci vediamo alla prossima.